per Scali che è collegato con noi, buonasera direttore buonasera a tutti, buonasera preso positivamente questo 0-0 in casa del Soriano o per quello che si è creato si poteva portare a casa anche l'intera posta in palio? benissimo, tutto perfetto, allora il discorso è questo, se uno mi diceva prima di andare a Soriano un pareggio ecco era un risultato eccezionale per noi perché innanzitutto giocavamo con una squadra che era in forma alla grande in questo periodo, ma non solo, per noi un pareggio era ottimo, però oggi guardando la partita sta proprio stretto al gioioso ecco, perché abbiamo fatto una grande partita e meritavamo qualcosa in più anche gli amici di Soriano hanno detto la stessa cosa innanzitutto ecco io volevo ringraziare immensamente tutta la dirigenza del Soriano per la grande ospettabilità in tutti i sensi, sia a livello che siamo andati al ristorante ci hanno trattato veramente benissimo, ecco le ringraziamo ufficialmente e niente, una bella partita, oggi sicuramente ecco abbiamo fatto una partita veramente ecco perfetta e abbiamo visto ecco per la prima volta anche il nostro diciamo nuovo arrivo Igor è l'attaccante che ha fatto veramente bene, ma non solo, tutta la squadra si è comportata alla grande è il migliore in campo per me è stato Panetta, che ha fatto veramente una grande partita Tornate a fare punti in trasferta prima di affrontare una squadra importante della Promosport che però non sta attraversando un momento brillante ecco però chiaramente non va sottovalutato come avversario Eh sì ma non è che ecco bravo, non brillante o brillante incontriamo uno squadrone una squadra ecco costruita per vincere il campionato con degli elementi fuori dal normale e non solo, poi hanno anche preso nel mercato di reparazione anche qualche elemento molto importante tipo Scognamiglio che l'ho visto ecco ad Agri che è un grande calzatore quindi si sono rinforzate pur, non solo ecco il momento è normale, oggi dovevano approfittare ecco e cercare di vincere la partita, però ecco non sono riuscite però è sempre una grande squadra Sì, Vincenzo? Ah e poi è stata la prima vittoria dell'Era Galati, quella partita no se non sbaglio quindi l'avete vinto fuori casa lì Questa è stata la prima vittoria in trasferta con una squadra, con uno squadrone ecco allora abbiamo fatto una grande vittoria Ientile, Ientile Sì sì sì, ha fatto un gran gol Ientile ma è stata una bella vittoria e allora però ecco le partite, le partite diverse ecco sicuramente domenica ci sarà una bella sfida ecco io spero che ci saranno parecchie persone anche a vedere questa sfida perché è una sfida importante e cerchiamo di, se riusciamo a fare qualche punto in modo tale di continuare i risultati utili consecutivi perché questo è molto importante in questo cammino che dobbiamo fare noi per la solvezza Bene, grazie Scali per l'intervento Buonasera a tutti, buonasera Buonasera, buonasera a Peppe Scali, direttore sportivo della gioiosa Ionica Ah, qui ne vediamo Buonasera a tutti